Primo corner della partita battuto destro destro ad uscire verso il centro dell'area stacca di Renzi prima di tutti il pallone si spegne sul fondo numero 3 Luciano uno contro uno poi raddoppiato costretto a rientrare sul destro Luciano mettere in mezzo questo pallone arriva di testa dalle retrovie Uggeri sfiora solo il pallone fuori tra largo di Renzi vada solo perché ha spazio poi gioca per Grelloni in avanti conduzione con esterno destro Marziali il movimento buono se la sposta sul destro prova a calciare il pallone esce di poco sopra la traversa ancora una volta Marziali avanti sempre per Pietrosino da questa parte c'era anche Barbara nessuno l'ha visto però Bozzoni riesce ad andare via saltare i due avversari prova a calciare da fuori si stende Francavilla e mette in corner possesso comunque ancora dell'Arcadia Forgione uno contro uno con Barbarolo salta Forgione salta anche Pietrosino che l'ha tornato prova al tiro Forgione la prende malissimo e il pallone va sul fondo parte Melis con la rincorsa al destro morbido di Melis il pallone sorvola la traversa di un nulla in difesa Grelloni sul pallone il destro morbido la deviazione della barriera il pallone pericolosissimo esce alla sinistra di Ciurluini nuova opportunità comunque per l'Arcadia dalla bandierina con Melis battuto adesso il corner spiovente al centro dell'area lo stacco di Di Renzi la blocca Ciurluini altra occasione Bruzzese Forgione uno contro due il cross in mezzo che arriva verso il centro dell'area lo stacco di Marziali la traversa colpita dopo la deviazione di Ciurluini decisivo l'estremo difensore della Dinamo ancora riesce ad uscire dal pressing di due avversari di Bruzzese poi il tiro ancora la traversa colpita clamoroso il pallone resta in area di rigore e poi Forgione che prova ad andare come al solito con le sue accelerazioni sulla fascia si appoggia adesso all'indietro a Melis trova il velo, il pallone passa per Uggeri che calcia in porta a tu per tu con Ciurluini e la sblocca per l'Arcadia 1-0 fondo in avanti salta Procopio riesce a far passare il pallone Crawford, lato corto dell'area ancora Crawford affrontato da un avversario prova a calciare incrociando questo destro blocca Ciurluini a terra Alessandrelli in verticale per Bozzoni si gira, prova a calciare tiro che non impensierisce Francavilla lunghissimo in avanti cercare subito il movimento di Ceravolo in profondità il pallone è giocato ancora da Uggeri che prova da lontano blocca Ciurluini per Bozzoni che sta giocando letteralmente a tutto campo adesso si è spostato quasi sulla linea difensiva troppa confidenza però perde il pallone Crawford può andare avanti puntare un avversario se la sposta il pallone è giocato sulla destra per il tiro si oppone Ciurluini a Ceravolo tantissima densità al limite dell'area piccola il corner battuto adesso con una traiettoria ad uscire il colpo di testa Francavilla sulla linea tiene in piedi il risultato per l'Arcadia importantissimo mantenere il possesso riesce a giocarla corta il pallone è allontanato arriva il triplice fischio l'Arcadia si aggiudica il derby Tiburtino per 1-0 mantiene il contatto con Torlupara inizia con una sconfitta il 2022 della Dinamo Roma grazie a tutti